Benvenuti e benvenute in questo nuovo video tutorial di Orizzonte Scuola sulla compilazione della domanda per il concorso di educazione motoria nella scuola primaria. È possibile presentare l'istanza entro il 6 settembre attraverso la piattaforma Concorsi e procedure selettive. Si può accedere alla piattaforma dal sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito andando su Argomenti e Servizi e cercando la piattaforma Tra i Servizi Online. Per accedervi basta cliccare poi su Vai al servizio ed entrare utilizzando uno di questi servizi fra i più comuni Viello Speed. Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma visualizzerete il concorso per educazione motoria nella scuola primaria. Nello stesso box troverete i riferimenti normativi, le fac, la guida ministeriale, il link per effettuare il pagamento. Invece per compilare la domanda cliccate sull'apposita voce. Nell'informativa troverete alcune indicazioni sulla compilazione della domanda, tra queste per esempio come verificare che la domanda sia stata correttamente inoltrata. Ricordo infatti che non è sufficiente compilarla ma deve essere anche inoltrata. L'inoltro è avvenuto correttamente se è stata ricevuta un'email con il pdf della domanda e se accedendo all'istanza si trova la ticitura inoltrata. Se si volesse modificare la domanda dopo l'inoltro, entro il 6 settembre è possibile annullarla, modificarla e inoltrarla nuovamente. Preso atto dell'informativa cliccate in fondo su presa visione. Cliccando a destra su avanti dovrete selezionare la regione di partecipazione al concorso. Ricordo infatti che sebbene il concorso sia nazionale è su base regionale. Una volta selezionata la regione, cliccate nuovamente su avanti. Dopo aver compilato i vostri dati personali, cliccate nuovamente su avanti per accedere alla domanda. Iniziamo la compilazione dalla sezione obbligatoria sul titolo di accesso cliccando su questo più. Selezionate l'unica tipologia di posto selezionabile e cliccate su aggiungi. Selezionate titolo di studio, la specifica laurea, se magistrale oppure specialistica, e la specifica classe di laurea. Indicate il voto specificando anche eventuali centesimi e soprattutto la base di votazione. Il software vi convertirà automaticamente il voto in centesimi. Se, come in questo caso, avete un voto di laurea preciso, attenzione a non spuntare questa voce, che invece è per coloro che non hanno una votazione specifica. Successivamente, indicate la data di conseguimento, il luogo, quindi la specifica università in cui avete conseguito il titolo, e infine dichiarate di aver conseguito i 24 CFU spuntando questa voce. Anche per i 24 CFU specificate la data in cui sono stati riconosciuti o conseguiti e l'Ateneo. Cliccate su salva e tornerete nella finestra principale della domanda. Ogni volta che compilerete una sezione, compariranno tre icone. Quella di sinistra per visualizzare la sezione, quella centrale per modificarla, quella di destra per eliminarla. Se avete il servizio specifico nel posto di educazione motoria nella scuola primaria, questo è valutabile ai sensi del punto C.1 delle tabelle legate al Decreto Ministeriale numero 80 del 2022. Per inserirlo, cliccate su aggiungi, selezionate l'anno scolastico che può essere solamente 2022-2023, il tipo di servizio, se svolto nelle scuole paritarie oppure nelle scuole statali, sono valutabili entrambi. Come gradatoria stiamo indicando in questo esempio il posto specifico su scienze motorie nella scuola primaria, quindi EEEM. Se il servizio è stato svolto in Italia lasciate la spunta su no, perché la spunta su sì è per coloro che hanno svolto il servizio in paesi dell'Unione Europea, però esteri. Indicate gli estremi del contratto che, affinché sia valutabile, deve coprire un'annualità di servizio. Per anno di servizio si intende un servizio di almeno 180 giorni, svolte nello stesso anno scolastico, oppure servizio continuativo dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini. In quest'ultimo caso, benché non si arrivi a 180 giorni, questa è considerata come annualità e quindi bisogna spuntare la voce apposita. Infine, indicate il nome della scuola primaria in cui è stato svolto il servizio, la sua provincia e il comune. Non sono valutabili altri servizi, ma se avete svolto altre due annualità negli ultimi dieci anni nelle scuole statali, anche su altro posto o classe di concorso, raggiungete i tre anni di servizio che vi consentono di accedere alla quota riservata del 30% dei posti. Per inserire tali servizi, cliccate in alto su aggiungi e vi si aprirà un nuovo box da compilare. Per velocizzare il video tutorial, non vi compilo i passaggi passo dopo passo come fatto nel box precedente, tanto sono sempre gli stessi. vi mostro come ho inserito queste due annualità. Una è nel 2020-21, su posto comune alla scuola primaria, un'altra nel 2021-22, stavolta sulla classe di concorso A49. L'annualità che abbiamo inserito, che è valutabile perché specifica, sul posto di scienze motore nella scuola primaria, è andata in coda perché vengono automaticamente ordinate in ordine cronologico. Una volta completato tutto, cliccate su Salva. Se avete dei titoli culturali fra quelli elencati nell'allegato B, potete inserirle cliccando su Accedi in corrispondenza di altri titoli valutabili. Nella sezione sono già elencati tutti i titoli valutabili, come il dottorato di ricerca, il diploma di perfezionamento, l'ASN per professori universitari, ordinari o associati, gli assegni di ricerca sono valutabili solo quelli corrispondenti ai riferimenti normativi qui elencati, l'inserimento nelle gradatorie nazionali per contratti a tempo indeterminato come docenti AFAM, oppure ancora il punto B.6 relativo a lauree di secondo livello, che siano però ulteriori rispetto a quello che ha dato accesso alla procedura concorsuale, quindi ulteriori rispetto alla laurea in scienze motorie, non va ripetuta la laurea in scienze motorie in questa sezione. A titolo di esempio inseriamo ora un diploma vecchio ordinamento del conservatorio in questa sezione. Per farlo clicchiamo su aggiungi, nuovamente su aggiungi, selezioniamo il titolo di studio, in questo caso diploma di conservatorio vecchio ordinamento, l'esatto diploma, supponiamo che sia in viola, l'anno accademico di conseguimento, l'esatta data, l'istituzione, e poi clicchiamo su salva. Come potrete vedere il campo compilato risulterà in verde. Analogamente il punto B.7 riguarda lauree triennali ulteriori rispetto all'eventuale laurea triennale in scienze motorie che ha dato accesso alla laurea magistrale indicata fra i requisiti. Ancora altri titoli che si possono valutare sono i diplomi di specializzazione di durata pluriannale, il TFA sostegno, il CLIL dove attenzione perché ci sono tre diverse voci a seconda dei riferimenti normativi a cui si riferiscono. Infine abbiamo le certificazioni linguistiche di livello C1 o C2, i master e i diplomi di perfezionamento da 60 CFU e il titolo di specializzazione in italiano L2. Completato l'inserimento dei titoli, cliccate in alto a destra su Torna alla lista principale. La sezione dei titoli di preferenza è utile per indicare eventuali titoli che consentono di avere una precedenza nei casi in cui si abbia una parità di punteggio. Tra i vari titoli, quelli più comuni sono la lettera D, aver prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso e quello dei figli a carico. In questo caso bisogna anche indicare il numero dei figli. Una volta compilate le preferenze, basta poi cliccare su Salva. La sezione dei titoli di riserva è per coloro che usufruiscono della legge numero 68 del 1999 che mira a tutelare una serie di categorie di invalidi. Nel caso in cui non usufruiste di questa legge dovete lasciare la sezione incompleta. Infine, vi è la sezione altre dichiarazioni che è obbligatoria. Tali dichiarazioni che per brevità ho già compilato riguardano la cittadinanza, l'iscrizione alle liste elettorali, specificando anche il comune, l'idoneità fisica, lo svolgimento del lavoro, eventuali condanne e procedimenti penali, l'essere o non essere stati licenziati da un impiego statale, eventualmente una disabilità personale, la dichiarazione sul versamento della tassa concorsuale che si può pagare attraverso il link che vi ho fatto vedere all'inizio del video tutorial. Bisogna qui inoltre allegare la ricevuta di pagamento e infine l'ultimo campo è quello sulla privacy. Una volta concluso, cliccate su Salva. La sezione degli allegati deve essere compilata solamente da coloro che necessitano di allegare particolari documentazioni, come ad esempio il riconoscimento di un titolo estero. In generale, tutti i titoli italiani sono autocertificabili e la domanda funge da autocertificazione, quindi non bisogna allegarli. Una volta completata la domanda, cliccate su Inoltre per inviarla. Per ulteriori informazioni vi rimando al sito www.orizzontescuola.it